Ciao a tutti! Ciao Gennaro, ben arrivato! Come stai? Bellissima, eh? Come stai? Ciao, Gennaro! Ma benissimo, grazie! Ciao Nicola! Bene, bene, grazie! Allora, Gennaro, com'è andata questa esperienza? Dai, bene, bene, porto a casa sicuramente una bellissima esperienza indelebile a 22 anni, dove ne ritrarrò molto sicuramente, adesso incomincerò a apprezzare tutte le piccole cose della vita, tra cui sicuramente la famiglia, le amicizie, veramente voglio ringraziare chiunque mi ha dato la possibilità di intraprendere questa avventura. Penso di aver fatto qualche errore? Guarda, ne commettiamo tanti gli errori nella vita, ne commettiamo tanti, soprattutto dagli sbagli si impara, e c'è tanto ancora da sbagliare, spero che comunque... No, c'è tanto da sbagliare, c'è tanto da imparare! C'è tanto da imparare, scusami, c'è tanto da sbagliare a 22 anni, ma tanto anche da imparare, o no? Quindi, vabbè, come ti ho detto anche, come hai detto tu, ce la prendiamo come viene, a Roma si diceva in un'altra maniera, hai detto tu, vabbè, comunque sono contento e voglio ringraziare. Un pronostico, chi vince secondo te? Ma io, guarda, anima mia, stando con me, quindi come si dice a Napoli, forza Nick, cioè... Grazie a tutti!